Alla fine del miliardo di anni, noioso, improvvisamente la vita è esplosa. Il paleozoico comincia sostanzialmente con tutte le famiglie attuali già perfettamente formate. Gli artropodi, i molluspi, i brachiopodi, i briozoi, gli vertebrati un pochino dopo, ma c'erano già i primi cordati, i celenterati, eccetera. Cosa vuol dire questo? Che durante quel miliardo di anni noiosi la vita non era stata ferma e buona, ma zitta zitta aveva preparato tutti i piani corporei necessari, di cui probabilmente le faune di Dicaria o di Burgess erano dei primi tentativi di evoluzione. I trilobiti sono il classico fossile del paleozoico, quando uno pensa all'animale antico pensa al trilobite. Il trilobite perché è fatto da tre elementi, sia in senso non-citodinale che in senso trasversale c'è il cefalon, c'è la testa, il torace e il pigidio che è sopra il buco del culo. La vita comincia durante il paleozoico, esplode, esplode, conquista prima di tutto il mare, soprattutto l'ambiente di acque basse, l'ambiente dove arriva la luce del sole, dove c'è la fotosintesi che è la base della catena alimentare. Il mare si popolano, i mari bassi si popolano di un numero enorme di organismi, poi arrivano i primi pesci, un tipo di cepalopode che si chiama ortoceras fa queste specie di coni, questo cono dentro è diviso in una serie di celle, queste celle sono riempite o svuotate di gas e quindi permettono all'organismo di nuotare oppure di andare in profondità. Queste sono le celle, c'è un sifone centrale. Come fa il nostro cepalopode, il nostro ortoceras a riempire le loro sacche? Andavano in superficie a prendere una boccata d'aria? No, le riempivano con il gas metano prodotto dai batteri metanogeni dell'archeano con cui erano in simbiosi. Poi cominciano ad arrotolarsi fino a che si arrivano alle forme più evolute, semman delle lumache, ma in realtà dentro c'è un polpo. Il polpo è un animale estremamente intelligente con un sistema nervoso molto sviluppato. Abbiamo già dato un'occhiata a queste cose, abbiamo visto che i continenti nel frattempo non stanno fermi, si muovono qua e là, ballonzano alla deriva, vanno su, vanno giù. Durante il periodo devoniano e il carbonifero, i continenti si rompono e si distribuiscono un po' a macchia. C'erano due grandi masse continentali, una a nord, una a sud, divise da un oceano equatoriale. Questa conformazione permetteva alle correnti marine una circolazione molto efficiente, quindi distribuiva bene il calore dall'equatore verso i poli. E altrettanto le correnti atmosferiche portavano l'umidità fino dentro le masse continentali. Risultato? Un clima umido, temperato, stabile, il clima ideale per la sviluppo della vegetazione. E quindi comincia la colonizzazione delle terre emerse da parte dei vegetali. I primi vegetali che colonizzano la terra sono le felci. Producono delle spore, le spore vengono trasportate dal vento, ricassano nelle zone umide, si sviluppano delle nuove organiche. Ce ne sono così tanti che periodicamente questa quantità di vegetale viene seppellita e accumulata e produce delle giacimenti di carbone così spessi che in quel periodo viene chiamato carbonifero. Carbonifero perché c'è il carbone, c'è il carbone perché c'è tanta vita vegetale, c'è tanta vita vegetale perché in quel momento il clima era mite, temperato, molto umido. Era mite, temperato, molto umido perché i continenti avevano una conformazione idonea. Carbonifero abbiamo detto momento di sviluppo della vita vegetale, tanta vegetazione, tanto ossigeno. Prima conquista delle terre emerse da parte degli insetti, poi dopo arrivano i primi pesci che cominciano ad affacciarsi, cominciano a trasformare le branchie in organi di respirazione, però gli anfibi hanno un difetto, devono tornare in acqua per riprodursi, quindi non possono occupare l'intero areale. A un certo punto un anfibio più intelligente di quegli altri dice ma perché io devo andare ogni volta fino al mare per riprodurmi? Io mi prendo un secchio d'acqua di mare e me la porto dietro e inventa l'uovo. E così nascono i rettili. La prima conquista della terra emerse è dovuta a una invenzione da parte della vita che è l'uovo. Vedete che la vita va avanti per invenzioni strategiche e ogni invenzione permette sì di conquistare dei nuovi ambienti. Il paleozoico è il mondo dei grandi rettili, avevano pochi predatori perché c'era tanta acqua, tanta umidità, tanto da mangiare, un paradiso e vivono felici in questo paradiso per un sacco di milioni di anni. Pensavano che il paradiso sarebbe durato per sempre e invece no, succede qualche cosa. Succede che i continenti piano piano, come avevano creato quella configurazione favorevole del carbonifero, cominciano a cambiare conformazione, il mare equatoriale si chiude, le masse continentali vanno a unirsi fra di loro formando quello che si chiamerà il Pangea. Quando i continenti si uniscono fra di loro, cessano quel nato trasportatore delle grandi correnti oceaniche e delle grandi correnti atmosferiche. Voi sapete che i grandi deserti sono nell'interno dei continenti, il Gobi, il Sahara. Perché? Perché l'area umida del mare si scarica sui bordi e nell'interno arriva solamente l'aria secca. Immaginatevi un deserto grande quando tutti i continenti messi insieme. Nel momento del Pangea la distribuzione del calore e dell'unità era pessima, quindi grandi fasi glaciali nelle aree polari, caldo ignorante nelle zone equatoriali. I periodi glaciali sono periodi a bassa evaporazione e sono periodi in genere desertici. Risultato? I grandi giacimenti di carbone, del carbonifero, finiscono e i sedimenti scuri, carboniosi, ricchi in materia organica, vengono sostituiti da sedimenti di tipo desertico, eolico, sabbie. Perché rosse? Perché l'esposizione all'aria, all'atmosfera delle rocce ne causa l'ossidazione e quindi oggi noi vediamo il Permiano sotto forma di grandi masse di arenarie di colore rosso. Il Pangea occupava tutti i continenti, il Permiano è praticamente distribuito su tutti i continenti attuali. Qui siamo a Petra, vedete come il colore è rosso, queste qui sono le arenarie di Petra, siamo in Giordania, ma se voi andate a vedere i film di Cabovi nella Monument Valley, vedete ugualmente le colonne di arenarie rosse che indicano che in quel momento il clima era prevalentemente desertico. Naturalmente spariscono le grandi foreste di felci, ma sparisce anche tutto l'ecosistema associato. E quindi gran parte dei rettili entra in crisi e si estingue. E questa è la seconda grande estinzione della vita sulla Terra, perlomeno la seconda di quelle che faccio io. Se voi giocate in internet trovate le cinque grandi estinzioni del passato. Ci sono molte idee fantasiose, le estinzioni del Permiano qualcuno le mette in relazione all'arrivo di un meteorite, qualche all'esplosione di una supernova che... In realtà è un'estinzione molto lenta, non è improvvisa, ed è la conseguenza di un grande cambiamento climatico. Da un clima prevalentemente tropicale, umido, a un clima desertico, freddo. Comunque sia, compare oltre il 60% delle specie viventi e oltre il 97% degli organismi, dei singoli organismi. La vita si riduce, vita superiore naturalmente, degli areali molto ristretti, però comincia a sviluppare delle nuove strategie di sopravvivere, di riconquistare l'ambiente. Quando una popolazione è molto ampia e molto stabile, le mutazioni favorevoli non si propagano, perché vengono diluite rispetto a quelle altre. Nel momento di crisi invece si evolvono. Nel momento in cui il Pangea comincia a rompere, l'acqua rioccupa le posizioni interne ai continenti, ritornano le piogge, ritornano i mari, la vita ha sviluppato delle altre strategie. Prima si forma la parte settentrionale dell'oceano atlantico, e un braccio di mare che arriva fino all'attuale oceano indiano che si chiama Tetide. Questo è il mare in cui si evolverà poi il palio mediterraneo con tutte le catene montuose e con tutti i sedimenti e le scogliere coralline che noi vediamo ogni volta che andiamo sul Gran Sasso. Più o meno come si forma un oceano quando si rompe un continente, lo possiamo vedere, andiamo a vedere dove oggi succede questa cosa qui. Per esempio in quella che è la Valle del Giordano, che è la persecuzione del Golfo di Acaba, che a sua volta è la persecuzione del Mar Rosso, quindi di una grande frattura tettonica che sta separando da una parte l'Africa e dall'altra parte la penisola arabica. Prima di tutto quando un continente si rompe ne approfittano i vulcani, ne approfitta il mantello per risalire dalle fratture e quindi genera eruzioni vulcaniche. Ce ne sono per esempio andando in Africa e chi li mangiava eccetera. Qui nel rift del Mar Rosso e del Giordano c'è dell'attività vulcanica? Oggi non lo so, ma la Bibbia dice che le città di Sodoma e Gomorra, siccome erano stati cattivi, gli dà questa pioggia di fuoco che distrugge le città. Vi ricordate che Lot scappa? Lui prende la moglie, fugge seguendo la via del Signore, ma i familiari sono presi della curiosità, si voltano indietro per vedere cosa stava succedendo e vengono trasformati in statue di sale. Il sale è dovuto alla formazione di depositi di tipo evaporitico, il mare è morto, è dovuto alla forte evaporazione delle acque di questo braccio di mare che entrano in una frattura stretta, il clima è molto caldo, l'evaporazione è molto forte e quindi si formano dei depositi di sale e da lì deriva il racconto, l'idea di questi blocchi di sale scolpiti dalle intemperie che sembrano statue e figure umane. Questi sedimenti si chiamano sedimenti di tipo evaporitico, cioè dovuti all'evaporazione. Se io vado a guardare, per esempio in Provenza, cosa succede dopo il grande deserto del Permiano, quindi le arenarie rosse, dopo vuol dire sopra, per la legge della stratigrafia, sopra le arenarie del deserto si formano dei depositi marini di tipo evaporitico, cioè nel deserto arriva una lama di acqua, questa lama di acqua evapora e deposita sali, carbonati, cloruri, eccetera, cioè dei depositi di tipo evaporitico. Questo primo mare si apre sempre di più, si formano dei bracci di mare più profondi ma ancora poco ossigenati. Poco ossigeno vuol dire poca attività biologica al fondo del mare, quindi la materia organica si accumula, perché non viene consumata da tutti gli organismi libivoli che vivono alla base dei sedimenti. Quindi il colore principale è il colore nero, perché la materia organica scura, prima era rosso, poi arrivano le evaporitiche che sono bianche, poi arrivano i sedimenti anossici con poco ossigeno che sono scuri. E quindi abbiamo delle marne nere che sono caratteristiche del Trias. Il Trias è il primo momento dell'apertura del Pangea. Io geologo vedo rosso, permiano, evaporiti il momento di invasione del mare, ambiente nero, quindi ambiente poco ossigenato, lo chiamo Trias, siccome in questo ambiente poco ossigenato alcuni organismi ne approfittano. Quando le condizioni ambientali sono difficili, alcuni organismi si specializzano per vivere in quegli ambienti, perché non hanno competitori. Uno di questi è il megalodon, è un conchiglione alto così, un vongolone alto così, che aveva una sua lingua, mangiava tutta la materia organica presente al fondo dei sedimenti triastici ed aveva un metabolismo che gli permetteva di vivere con poco ossigeno. Questo è un fossile guida. Quando io vado a giro e trovo un megalodon, a parte che faccio salti alti così perché sono cent'anni che non ne trova più nessuno, ma insomma, so che sono in quel determinato periodo geologico, anzi so due cose, so che sono in un certo ambiente, poco ossigenato, di mare, asfittico, e che sono in un certo periodo geologico. Quindi è un fossile guida sia di età sia di ambiente. E poi il mesozoico è l'epoca dei dinosauri, ma non sono tanto, noi conosciamo i dinosauri perché abbiamo visto Jurassic Park, ma non sono i dinosauri la cosa più importante che è successa nel mesozoico. Nel mesozoico è arrivata l'erba, sono arrivate le graminacee e con le graminacee sono arrivati i semi. Come l'uovo, il seme è un'invenzione strategica che permette a un germe vitale di rimanere quiescente, dormiente per periodi di tempo molto lunghi, quindi permette di superare un momento di siccità, e poi nasce cento anni dopo. Quindi, mentre nel carbonifero le felci sono sparite nel momento in cui si è desertificato il clima, invece l'invenzione del seme permette all'erba e alle piante superiori, alle panerogame, ai fiori, eccetera, di conquistare ambienti sempre diversi. E ha seguito loro anche gli animali. Nel mesozoico compare una cosa strana. Questa è un'ambra. La riconoscete questa qua dentro? È una piuma. Nel mesozoico nascono le piume. Le piume sono in realtà delle squame dei rettili modificate in forma particolare per divenire una copertura che conserva il calore. Dopo si svilupperanno anche i primi uccelli, ma soprattutto, noi abbiamo sempre immaginato i dinosauri come dei lucertoloni verdi, no, perlomeno buona parte delle famiglie dei dinosauri erano piumati. Ci siamo sempre chiesti, ma che figlio hanno fatto i dinosauri? Perché sono estinti i dinosauri? La risposta è semplice, non si sono estinti. Ce l'abbiamo nel pollaio i dinosauri. Si sono trasformati in uccelli. I dinosauri erano animali estremamente efficienti, avevano un sistema di respirazione molto simile a quello degli uccelli. Gli uccelli non respirano come noi. L'uccello ha bisogno di una quantità di ossigeno molto elevata, perché il suo consumo metabolico durante il volo è altissimo. Lui non respira ispirando ed espirando come noi, largando la cassa toracica, un po' perché la cassa toracica gli serve come appoggio dei muscoli alari. Quindi ha una serie di pompe, che si chiamano sacche a erifere, messe nella muscolatura in varie zone del corpo, che pompano l'aria dall'esterno attraverso i polmoni e le ieterno. Cioè praticamente gli uccelli respirano la reazione in continuo. Bene, i dinosauri avevano le sacche a erifere, quindi avevano lo stesso sistema di ventilazione degli uccelli. Quindi i dinosauri erano molto più efficienti dei mammiferi. Poi si pensa anche che i dinosauri fossero stupidi, se li immaginiamo, lenti, grossi, grossi e coglioni, perché avevano un cervello piccolino. Ma avevano un cervello piccolo, ma molto più efficiente di quello dei mammiferi. Gli uccelli, le galline, che diciamo, ma te c'hai la testa di una gallina, l'efficienza del cervello di una gallina è molto sicura dell'efficienza del cervello nostro, perché i singoli neuroni hanno un numero di connessioni superiore a quello dei mammiferi. La gazza, che è uno degli uccelli più intelligenti, ha un'intelligenza paragonabile a quella di una scimmia, con un cervello molto più piccolo. Quindi i dinosauri erano degli animali estremamente efficienti. Avevano il sangue caldo, fosse altro per le loro dimensioni, e quindi non erano legati al momento di pausa metabolica durante la notte. Erano molto veloci, erano dei predatori tremendi. I mammiferi c'erano anche loro, i mammiferi sono più vecchi dei dinosauri. Ma i mammiferi, poverini, piccini piccini, topini topini, se ne stavano zitti zitti, perché i dinosauri gli davano un colpo di coda e li sistemavano. E quindi i mammiferi sono sopravvissuti all'ombra dei dinosauri per un centinaio di milioni di anni e hanno aspettato il loro turno per venire fuori. Ok, andiamo avanti. Il nostro mare si apre, si formano le prime scogliere coralline, si crea un ambiente di mare più o meno tropicale, ed è quindi il giurassico il momento delle grandi scogliere coralline, praticamente uguale a quelle moderne. Va bene, c'erano i tetracoralli invece degli esacoralli, c'erano le spugne invece dei briozoi, ma anche se cambiano le singole specie o dei singoli generi, l'associazione di scogliere rimane sempre quella. Organismi coloniali che fissano carbonato di calcio e tutti i pesci che ne derivano. Il giurassico è fatto da grandi masse calcare, qui siamo in Provenza, dovuti allo sviluppo di queste grandi barriere e piattaforme organogeni, cioè costruite da organismi coloniali che fissavano carbonato di calcio. Buona parte dell'appennino è fatta di questa roba qua. Andando avanti, il nostro mare si allarga ancora, i due continenti si separano quasi completamente, una parte di queste vecchie scogliere vanno in profondità, quando succede questo si dice che la piattaforma annega, quando la profondità diventa tale che la luce del sole non arriva più, si interrompe la catena alimentare e quindi si ferma tutto. La piattaforma affoga e in cima semplicemente precipita tutto ciò che nuotava o tutto ciò che veniva portato dai fiumi e quindi si deposita alla sommità di queste piattaforme. Questi momenti in cui la piattaforma è affogata e riceve i sedimenti si chiamano hard ground. Quindi la piattaforma che prima cresceva diventa una serie di strati sottili. Su questi strati sottili si vanno a depositare gli organismi che nuotavano. Quali erano gli organismi che nuotavano in quel tempo? Le ammoniti, cioè i discendenti di quei primi ortoceras, nautiloidi, che poi si sono arrotolati. Eccole qua. Le ammoniti, abbiamo visto, sono parenti del polpo. È un polpo con una conchiglia. La conchiglia si arricciola, viene riempita con i gas dovuti alla simbiosi con i batteri metanogeni archeani che gli permette di nuotare, occupano tutti gli oceani e quando muoiono precipitano sul fondo e si stratificano sopra le grandi piattaforme. Sono degli ottimi fossili guida, prima di tutto perché sono grossi. Quindi i geologi, anche quelli più cretini, riescono a riconoscerli bene. Molte rocce sono fatte proprio da gusci di ammoniti. Questo è un rosso ammonitico. Hanno una rapida evoluzione di forma e quindi sono degli ottimi fossili guida. Più un organismo muta rapidamente, più diventa caratteristico di un intervallo ristretto di anni. Quindi è un buon fossile guida. Due, nuoto nel tutto il mondo, quindi grande areale, rapida evoluzione nel tempo, ottimo fossile guida per i geologi. Arriviamo al Cretaceo. La Tetide e l'Oceano Atlantico si aprono sempre di più, si separano sempre di più, la parte centrale sprofonda, non ci sono più le piattaforme, ma ci sono depositi di mare profondo. Quindi prevalentemente delle argille. Le argille a casa mia si chiamano Crete e quindi quel periodo geologico con tanta quantità di argille si chiama Cretaceo. Quindi il Cretaceo, ricordatevi, è il momento di mare molto profondo, cioè la massima apertura del vecchio oceano Tetide. Non da tutte le parti il mare diventa profondo, ci sono sempre delle zone laterali. L'Appennino è una di queste zone che sta dalla parte centrale dell'Oceano Tetide e il continente africano. La Provenza sta viceversa sul margine europeo, da quell'altra parte della Tetide. L'Appennino continua a rimanere a bassa profondità perché è vicino alla costa. Quindi il Cretaceo da noi non è sprofondato, ma le piattaforme continuano a crescere. Il Gran Sasso comincia come giurassico e finisce come Cretaceo perché rimane sempre alto. Cosa cambia nel frattempo? Cambiano gli animali. Ai coralli si sottituiscono dei rudisti, i rudisti sono degli animali particolari. I rudisti sono delle conchiglie, sono dei lamelli branchi, delle cosse. Una valva diventa un imbuto e l'altra diventa un tappino, un opercolo e a questa maniera si appiccicano le une sulle altre e formano delle scogliere. Cioè la rudista è un lamelli branco che occupa la nicchia ecologica dei coralli e costruisce delle scogliere che si chiamano scogliere a rudiste. Le nostre piattaforme ogni tanto emergono, rimangono a livello del mare, ogni tanto rimangono secche, c'è un po' di fango, in questo fango ci zampettano i tetrapodi e i dinosauri. Questo bell'ambiente. Allora, i dinosauri efficientissimi, intelligentissimi, occupano le terre emerse, le rudiste dominano gli ambienti di scogliera, le almoniti dominano il mare. Improvvisamente tutte e tre scompaiono, ma scompaiono anche una quantità di microorganismi, di piante, eccetera. Qui è successo un'altra catastrofe. Questa cosa sembra veramente improvvisa, istantanea. Tanto istantanea che le rocce cambiano. Qui siamo all'obito di pietra secca, guardate questo strato, qui le rocce sono chiare, i dinosauri erano vivi, lì le rocce sono scure, i dinosauri erano morti. C'è un limite improvviso e immediato che segna l'estinzione e il cambiamento completo della vita sul nostro pianeta. Cos'è successo? Una delle ipotesi più accreditate è quella dell'arrivo di un grosso meteorite sul pianeta. Meteorite che peraltro uno studioso americano che si chiama Alvarez ha individuato nello Yucatan grazie alla ricerca petrolifera perché si è trovato un'enorme fossa lunga un centinaio di chilometri e larga 80, scavata nei sedimenti che segna proprio l'impatto del meteorite che arriva in questa maniera, poi avete l'esplosione e l'onda d'urto che fa una serie di anelli concentrici. Non solo, su quel cambiamento di colore che si trova in tutto il pianeta dove la sedimentazione è continua, si trova un elemento particolare, è l'iridio. Il iridio è molto raro sulla Terra ma è comunissimo nelle meteorite. Quindi evidentemente il meteorite si è vaporizzato spargendo cenere e iridio su tutto il pianeta. Un'altra cosa che è caratteristica sono quelle minuscole palline di vetro che si chiamano sferuliti che anche quelle vengono interpretate come la vaporizzazione delle rocce silicatiche a causa dell'impatto del meteorite che poi le distribuisce su tutto il pianeta. Quelle sferuliti si trovano solo sui livelli di impatto meteorico. Comunque sia, il risultato è che c'è una estinzione drammatica della vita perché questa nuve dura per centinaia di anni, cessa la fotosintesi, i grandi erbivori muoiono, i carnivori all'inizio fanno festa e poi dopo tirano la cinghia anche loro. Chi è che sopravvive? I topi. I topi che si nutrono dei cadaveri dei grandi dinosauri siamo noi, noi siamo i discendenti di quei primi mammiferi. C'è un'altra ipotesi alternativa che è quella di un momento di grande attività vulcanica. Ci sono delle enormi distese vulcaniche, per esempio nel Deccan, dove per migliaia di chilometri quadrati si hanno sovrapposizioni di depositi di eruzione una dopo l'altra per centinaia di migliaia di anni. in realtà le due ipotesi non sono alternative. Un meteorite di quelle dimensioni è in grado di indurre una serie di instabilità nel mantello tale da poter anche essere lui stesso la causa anche dello sviluppo di attività magmatiche particolari. Sembra in realtà che molte fasi magmatiche molto virente siano collegate con cadute di meteoriti. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.